Melinda, leader nazionale del mercato delle mele come produzione integrata vuole essere leader anche nel mondo del biologico. Siamo partiti con un progetto bio formando alcuni dei nostri 4.000 produttori scegliendo zone ben delimitate per avere delle isole di produzione biologica. È importante dire che qui troviamo un contesto produttivo altamente qualificato, produttori ben disposti a produrre con fermezza delle mele che rispondano non solo a quello che è la certificazione e quindi a tutti i concetti rigorosamente sviluppati dal mondo bio ma anche mele di altissima qualità prodotte in vale di no. Il piano bio di Melinda è la naturale risposta a voler coniugare un trend di mercato che indica nei consumatori sempre più attenzione a un prodotto sostenibile e un'azienda, il nostro consorzio, che di questi valori fa una filosofia da ormai molti anni. Per noi comunicare il biologico significa avere un argomento in più che si aggiunge alle nostre celle ipogee nelle quali conserviamo in maniera naturale e quindi sostenibile in modo unico al mondo le nostre mele all'interno di grotte scavate nella roccia dolomia piuttosto che l'irrigazione a goccia con la quale risparmiamo il 30% di acqua per l'irrigazione o molti altri esempi di sostenibilità si inquadrano proprio in un concetto molto ampio di produzioni sostenibili a 360 gradi.